All'NFC San Mernic 2021 c'è anche Federico Romeo. Federico come è andato questo torneo per te? È stato un torneo in cui ci vedeva un po' come una squadra favorita, però fortunatamente siamo usciti ai quarti di finale. Ricordiamo con chi eri squadra? Con Andrea Ripepi, mio fratello Gaetano e Giovanni Gruvi. Federico, passiamo invece al basket giocato, quest'anno hai avuto l'esperienza della Serie B, Salvezza con la palla Canestro Viola, il tuo bilancio e che stagione è stata? È stata un'annata fantastica, ho avuto possibilità di giocare con gente molto più esperta, che ha toccato campi di Serie A, sono cresciuto molto, ho imparato molto, anche toccando poche volte il campo. Però ricordiamoci che hai anche segnato negli ultimi minuti, prendendoti dei falli e anche falli e canestro. Anche? Falli e canestro no, soltanto falli, antisportivo peraltro. Spera che NFC 2021 è stata? Cosa si è ricominciata fin al mezzo? Un'edizione un po' strana, visto questo dannato Covid, però sempre molto emozionante, i tornei stivi sono sempre una bella cosa. Per l'anno prossimo? Ancora non si sa.